Buongiorno a tutti, ciao amici di Tonsalve e bentornati. Oggi facciamo una chiacchierata sul tema che è molto caldo negli ultimi tempi, che riguarda Netflix e soprattutto il fatto che entro fine anno arriverà un nuovo tipo di abbonamento che avrà la pubblicità inclusa e costerà un po' meno e molto probabilmente insieme a questo nuovo abbonamento arriveranno anche nuove limitazioni sulla condivisione della password. Ancora non abbiamo notizie certe a riguardo, però è quello che ci aspetta più o meno entro la fine dell'anno. Giusto Andrea? Sì, assolutamente corretto. Arriveranno queste novità per quanto riguarda Netflix. Diciamo che in questi ultimi periodi di abbonamenti con la sottoscrizione se ne sta parlando molto, quindi Netflix ma non soltanto. Automobili. A voglia, videogiochi soprattutto. Insomma c'è da pagare continuamente. Sì, bisogna sempre pagare, sempre pagare, 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 continuamente. Questa è un po' una seccatura e di effetti potremmo magari parlarne in un altro video perché c'è anche in inglese, forse tu non lo sai, esiste anche una nuova parola in inglese che si chiama subscription fatigue. Ah, no, non lo sapevo. Sì, che in effetti descrive proprio questo stress che ti viene dal fatto che devi avere millenina abbonamenti per vivere. Però oggi restiamo concentrati su Netflix. Netflix non è male. Ok. Non è male. L'idea di avere Netflix che costa un po' meno e può quindi ricevere, avere più abbonati, quindi magari fanno più soldi, producono più contenuti, più bel, contenuti migliori. Sì. Tutto sommato non è male. Sono perfettamente d'accordo, penso che sia, secondo me, un'ottima decisione quella presa da Netflix, la community probabilmente deve un attimo abituarsi a questa idea qua. Sì, è sempre una cattiva notizia. Quando ti dicono, ah, devi pagare di più, oppure devi pagare quando prima era gratis, spesso la riceviamo. In generale è una brutta notizia, però intanto chi è già abbonato a Netflix oggi e paga il suo abbonamento, non è che va a pagare di più. Sì, rimane uguale. Rimane uguale, sì. Per il momento non ci sono aumenti, anche se ovviamente non si può essere certi. È possibile che chi oggi non ha Netflix diventerà un nuovo abbonato con questo, quindi chi ce l'ha, tutto bene. Chi non ce l'ha, dice, boh, magari mi abbona perché fino a ieri non mi andava di pagare Netflix quello che costa, ci sta, no? Magari con questa nuova opzione dice, vabbè, dai, non costa neanche tanto, lo provo un mese, magari col mese gratuito, poi magari faccio un secondo mese, insomma, vediamo. Secondo me è un'idea molto interessante. Sì, sì, anche io credo che si tratti di raggiungere un gruppo di, un pubblico più ampio, perché tu dici, faccio l'abbonamento a 10 euro al mese e dici, hai tutte le persone che se lo possono permettere, ma tanti altri che vorrebbero ma dicono, no, 10 euro al mese sono troppi per me. Guarda che c'è tanta gente in queste condizioni, no? Certo. Che non è disposto a spendere. Anche perché ricordiamoci che al giorno d'oggi chi paga un abbonamento è molto probabile che ne stia pagando anche altri. Sicuro. Molto probabile, quindi insomma mi rendo conto che magari pagare 20 euro al mese un abbonamento sapendo che comunque ne devi pagare tanti altri può diventare pesante. Esatto, esatto, esatto. Tanta gente dice, ho già Sky, pago il canone Rai, che in certo senso è una forma di abbonamento. Sì, sì. Magari se lo sport pago pure da zone. Certo, certo, diventa come sta, comincia a diventare abbastanza così. Offrire una cosa che costa meno è interessante. Dopodiché andiamo a vedere il discorso dei contenuti, della qualità dei contenuti. Esatto, che però è soggettivo. Che ovviamente da una parte è sempre soggettivo, io posso dire a me piace Stranger Things, a te no, o viceversa, non è che si può dire nulla a riguardo. Sicuramente esiste un tema di successo di certi prodotti. Se penso agli ultimi anni, abbiamo detto Stranger Things, successo alla Madonna. Assolutamente. La Casa di Carta, che non è nato come prodotto Netflix, però poi lo è diventato. Ad esempio a me la Casa di Carta non piace per niente, eppure ha avuto un successo incredibile. Abbiamo avuto anche prodotti oggettivamente di qualità, tanto è vero che sono stati i candidati agli Oscar, hanno vinto degli Oscar, pensiamo a Roma, o The Irishman, insomma. Assolutamente. Roma è un bel esempio perché ha preso l'Oscar. Io lo trovo un film della Madonna bellissimo, però successo di pubblico. Quanti l'abbiamo visto a Roma? Forse il 10% pubblico a Netflix. Decisamente, non è un film per tutti. Non è gli Avengers che lo avevano tutti, e quindi c'è questo discorso qua sulla qualità. Il fatto è che se Netflix fa l'abbonamento a velocità e in camera ha più soldi, può fare più cose. Certo. Quindi magari avremo più prodotti come Roma, o come Stranger Things, o come The Witcher, anche, è un'altra cosa che io sinceramente non apprezzo particolarmente, ma ha avuto un bel successo. Sono tutte cose che arriveranno, ma di Umbrella Academy, a proposito, Umbrella Academy, l'ho appena finito. La terza stagione. La terza mi è piaciuta un sacco. Sicuramente, io credo che, sono d'accordo con te, la gente è reagita un po' troppo male. Sì. Ci ricordi dei commenti sotto le notizie. Secondo me, guarda Netflix. Ti stico subito. Sai un'altra cosa che secondo me sta cambiando Netflix, che secondo me è una cosa positiva, adesso è minimi che no, perché persone, ma è la verità, il fatto che stiano puntando a non inserire più tutta la stagione sin da subito, ma puntate alla volta. A te piace questa cosa qua? A me piace, allora, non mi piace, però dal punto di vista economico del servizio stesso secondo me è la cosa più giusta da fare, secondo me. Secondo te a loro conviene questa cosa qui? Conviene a loro, ma secondo me conviene anche a noi. Cioè, voglio dire, esce la stagione. Ok. No, e tu stai lì, sul divano, te la spari tutta e poi dici non c'è più niente da guardare. Secondo me è una cavolata sta cosa qua. Cioè, voglio dire, ti lamenti dopo che hai guardato una stagione per otto ore di fila. Ti lamenti che non c'è più nulla da vedere. O di più. E ti lamenti che non c'è più nulla da vedere. Secondo me, sia per Netflix stesso, che magari è riuscita ad accappararsi mesi in più di abbonamenti, perché sai, magari una puntata fa al scalo. Ma questa cosa qua succede, perché in effetti io ho conosciuto persone che dico guarda, mi abbono un mese, vedo quello che c'è da vedere e poi ti stico. Sì. Questa cosa succedeva, succede ancora. Questa cosa qua è tornata, tra virgolette, di moda con The Boys e con The Boys, ci furono le critiche, ti ricordi, con la seconda stagione? Oh, si sono riusciti tantissimo. E con The Mandalorian. Però ha funzionato e Netflix, con Stranger Things, ha provato una cosa del genere e secondo me ha funzionato molto, perché comunque non ti sei sparato tutto Stranger Things sin da subito e hai dato modo di abbonarsi al mese di luglio, per chi non l'ha visto fatto, e in più comunque hai mantenuto l'interesse sul prodotto. Secondo me funziona, secondo me funziona. Sì, io devo dire che faccio un po' fatica a capire questi meccanismi, perché io sono il tipo di consumatore che dicevo, guarda, mi abbono, pago quello che devo pagare e poi me ne dimentico, non sto a guardare tutti i mesi in modo di sdico, lo accendo, lo spengo. Però ti assicuro che c'è molta gente che paga il mensile e basta. Lo so, lo so, è come con i contratti telefonici. Avrei conosciuto anche tu persone che dici che cambiano il contratto telefonico sette volte all'anno, inseguendo continuamente l'opzione meno costosa e ovviamente rispetto a me risparmiano un sacco di soldi, però io divento matto per quelle cose, non riesco. Eh, anche qui vedi, in parere molto, molto soggettivo. Ecco, però, scusa, Vale, che cosa introdurrà questo abbonamento con pubblicità? Voglio dire, che cosa non avremo, che cosa avremo? Questo è un argomento interessante, ci saranno tutti i prodotti originali Netflix, quindi abbiamo detto Stranger Things, Grey Man, il film che è appena uscito, Roma, i prodotti creati da Netflix, quelli ci sono tutti sicuro. Poi c'è tutto il resto, cioè i prodotti che Netflix ha in licenza. Pensando alle cose famose di recenti, Peaky Blinders, è uno show BBC, che è la televisione pubblica britannica, che Netflix ha portato in Italia per un bel po' è stata esclusiva, adesso Peaky Blinders è anche su Prime Video. Sì. Su questi contenuti di licenza non si sa. Non si sa. Perché Netflix ha comprato queste licenze, ha fatto degli accordi di licenza con i produttori per il modello di business che hanno ora, quindi per l'abbonamento, ed è valido. E loro possono trasmettere questi contenuti. Nel momento in cui l'abbonamento cambia e c'è la pubblicità, quindi Netflix guadagna un po' dell'abbonamento e un po' della pubblicità, il licenziatario, quindi per esempio, che ne so, Warner Bros., dice, no, aspetta un attimo, il contratto è cambiato, dobbiamo riparlarne, rifare un altro accordo, oppure rifirmare quello esistente. Per questo Netflix ha detto, guardate che non lo sappiamo, perché non ha ancora finito di prendere gli accordi con tutti quanti. Io personalmente credo che ci sarà quasi tutto. Ci sarà quasi tutto? Sì, sì, sì. Ci sarà qualcuno che cercherà di tirare un po' l'accordo, di dire, no, guarda, allora mi dai di più, e Netflix dirà, no, allora non ti entri il tuo film. Ci saranno casi così, ma molto pochi. Ok, e per quanto concerne il prezzo, che prezzo ti aspetteresti o che vorresti? Allora, il prezzo, adesso il prezzo base di Netflix è 8 euro al mese, vabbè 7,99 ce l'ho qua davanti, che già è un prezzo abbastanza contenuto. Se vogliono farlo più basso ancora, penso che si possa parte dal pensare di un 4,99, 5,99. Ok, ma che risoluzione, perché ricordiamo che... La roba lì, guarda il tema delle protezioni, ma ma quanto mi fa incazzare? Perché 8 euro, voglio dire, abbiamo... 8 euro al mese, Netflix ti dà la 480p. Cioè, è una roba scandalosa. Nel 2022. Cioè, è orribile, orribile. E terrificante. Netflix, veramente, adesso parlo con Hastings, caro Reed, sto maledetto 480p, basta. Cioè, ma... Almeno 720, non si può. Gli altri danno 1080p, insomma, niente. O 4K, prendi video il Disney, ti danno 4K di base, qualunque... A parte che non hanno poi tutti questi tag diversi, però vuoi fare la differenza fra gli abbonamenti Plus, Premium e Stachip? Va bene, ma non ha 480p. No, infatti. Capisco che loro vogliono spingerti a comprare il piano più costoso, perché se lo guardo in televisione, sul televisore grande, c'è tutti dei limiti che dici 480p sul mio televisore 4K da 1000 pollici, insomma, si vede un po' male, no? Sì, anche perché, ripeto, non è che vai a pagare 2 euro, 3 euro, vai a pagare 8 euro al mese. 8 euro, perché è veramente scandaloso. Quello sì, è veramente schifoso. Non sappiamo l'account con pubblicità se sarà lo stesso disastro. Io temo di sì. Temo di sì che tu vai a pagare magari 5 euro al mese con pubblicità e a 400p. Devono rivedere, secondo me, i piani standard. Oppure magari ti fanno gli stessi piani base, standard e premium, aumentando... con pubblicità, quindi con gli stessi limiti, meno prezzo, boli... è una cosa che ancora non sappiamo. Non sappiamo, sì. Il capitolo qualità, secondo me, è un capitolo aperto e non vedo un grosso problema di qualità su Netflix rispetto agli altri, dico la verità. Abbiamo avuto prodotti eccellenti da tutte le parti. Ma, sono d'accordo. Allora, il problema secondo me non è tanto la qualità, perché comunque abbiamo visto Stranger Things, come Ombrella Academy, che sono tutte serie, The Witcher, sono tutte serie che possono, non possono piacere, però non sono fatte male. oggettivamente, rispetto a tante altre serie, la qualità c'è, si vede. C'è da dire che però, ne parlavamo prima, è brutto vedere magari qualche serie tv che esce, magari anche interessante, sotto certi punti di vista, ma poi non viene rinnovata. Il rinnovo... ne abbiamo tante di serie così. Sì, sì, devo dire che sono stato fortunato. Io ho rosicato per Altered Carbon, tantissimo. Davvero? Io la seconda non l'ho neanche finita, mi sono un po'... No, è vero, è vero, però la prima era... La prima era tantissima roba, era un prodotto eccellente, che però si è ucciso da solo, come seconda stagione sotto tono, è noiosa. Devo dire che, personalmente, non ho vissuto il trauma che mi hanno interrotto una serie che a me piaceva. Devo dire che quella che piaceva a me, finora... Mi sono perso a Discovery, perché è stata tolta da Netflix, e Star Trek Discovery mi stava piacendo, l'avrei vista volentieri. Che andrà su Paramount. Che andrà su Paramount, che esce... 15 settembre. Esatto, che ne hanno, poi video per cosa da... Un altro abbonamento. Vabbè, dai, senti, abbiamo già rubato un sacco di tempo ai nostri spettatori. Il punto che volevamo sottolineare è che l'account di Netflix con pubblicità va bene, potenzialmente è una buona cosa, potrebbe portare più contenuti, più abbonati, più qualità, più per tutti, più pilo per tutti e arrivederci alla prossima. Ma almeno devono migliorare la qualità video, almeno la risoluzione. La risoluzione, cara Netflix, alza la risoluzione. Almeno quella. Per piacere. Dai! Ti prego. Bene, dai, direi che ci siamo. Ovviamente diteci che cosa ne pensate nello spazio riservato ai commenti. Mettete un mi piace, iscrivetevi, attivate le notifiche. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.